Il servizio centrale operativo della Polizia di Catanzaro è sempre stato informato su tutte le indagini svolte dalla squadra mobile di Vibo, la quale dal 2007 ad oggi ha idagato a 360 gradi su tutti i clan della provincia dai Mancuso e i loro rivali. E' quanto sostenuto oggi in aula dinanzi al Tribunale di Vibo nell'ambito del procedimento purgatorio dall'ispettore Antonio Condoleo, a capo della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Vibo. Il processo vede imputati l'ex capo e il vice capo della squadra mobile di Vibo Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò accusati di concorso esterno in associazione mafiosa e l'avvocato Antonio Galati. L'ispettore Condoleo, teste dell'accusa rispondendo alle domande degli avvocati della difesa, ha finito per non confermare la tesi accusatoria contro i due vertici della mobile di Vibo, Lento e Rodonò, secondo cui non avrebbero volutamente indagato sui Mancuso dirottando le indagini sulle cosche rivali al clan di Limbadi. Il teste Condoleo ha infatti elencato in aula una lunga serie di attività investigative avviate contro i Mancuso e i clan loro alleati, oltre che sui rivali, avviate proprio durante il periodo di reggenza di Lento e Rodonò dal 2007 al 2012. Condoleo ha poi confermato che gli atti su un'indagine della DDA di Milano denominata Minotauro, di cui l'avvocato Galati è accusato di aver dato riservatamente notizie nel 2011 a un imprenditore di Limbadi, erano in realtà già stati resi pubblici sin dal 2003 in quanto confluiti nell'operazione Dynasty contro i Mancuso scattata nell'ottobre 2003.